Quindi questo mi rende scettico per moltiplicarsi delle conoscenze ogni due anni e mezzo, che è una cosa da fisici questa. E' il chip che contiene il doppio di conoscenza ogni x anni e procede con progressione geometrica. Il resto delle conoscenze, sì, certo la quantità si produce, riproduce a grande velocità, ma ciò che è veramente essenziale, dubito che abbia questa velocità di espansione. Ma questo era così, tanto per fare da contrapeso. E d'altra parte perché non appartene io?